Ciao, sono Neri Marco Re e vi accompagno nella lettura dell'opera Sternenfall, Stelle cadenti, di Anselm Kiefer. Immaginiamo di fronte a noi un dipinto enorme. Ci sovrasta ed emana un senso di potenza. È largo 5 metri e 30 centimetri e alto 4 metri e mezzo. È talmente grande che sono servite due tele accostate, ma non è possibile vedere la giuntura al centro dell'opera perché è interamente ricoperta da alti strati di materia pittorica di colore grigio scuro. Se potessimo toccarla con la punta delle dita, sentiremmo una superficie ruvida, fortemente irregolare, talmente spessa da sembrare un oggetto tridimensionale, una scultura piuttosto che un dipinto. Sulla tela l'artista ha stratificato con varie tecniche grandi quantità di materiali diversi. Colore e acrilico nero, colore a olio, gomma lacca, gesso e piombo, un materiale quest'ultimo legato alla tradizione alchemica e al concetto di trasformazione. L'artista lavora la tela come un alchimista alla sua pozione. Versa e impasta, spatola e raschia, fonde, dipinge e incide questa materia scura, pastosa, densa e pesante. Kiefer ha una profonda relazione fisica con l'oggetto che produce. Stratifica la materia sulla tela disposta a terra, gesto dopo gesto, strato dopo strato. Ci cammina intorno e sopra, come in una danza, lasciando gocciolare il colore direttamente dal pennello. Poi solleva la tela e continua a lavorare la materia asciutta. Kiefer interviene sulle sue opere per un tempo lunghissimo, tenendole nel suo studio per anni. La superficie di questo dipinto assomiglia alla crosta di un pianeta scavata dal vento e dalla pioggia durante ere geologiche. Sono affiorati crateri, montagne, valli e deserti. Tra le crepe che si aprono sotto le dita e le gocciolature rapprese, a tratti le nostre mani incontrano piccole strisce regolari, quasi dei rettangoli. Sembrano targhette. Sono tantissime, almeno un centinaio. Sono più lisce al tatto. Sono bianche, un bianco sporco. E sopra ci sono dipinti dei numeri neri. Sono lunghi codici. Intorno a ogni targhetta, la pasta scura come il piombo è stata sporcata con tanti puntini bianchi, con l'effetto che ogni targhetta sembra emettere una sorta di chiarore. Alcuni codici sono stati dipinti su targhette delle stesse dimensioni, ma di vetro. Si trovano per terra, sotto al quadro, come se fossero cadute dalla sua superficie e nessuno le avesse raccolte. Senza pestarle, ci allontaniamo dall'opera per osservarla nel suo insieme. Le targhette sul dipinto sono posizionate l'una accanto all'altra, a distanze più o meno regolari, prima più vicine, partendo dal lato destro del quadro, poi più lontane. Il ritmo della loro corsa sulla tela è veloce, per poi rallentare, come se ogni targhetta a un certo punto prendesse fiato e cominciasse a galleggiare nello spazio scuro e profondo. Questo movimento di elementi chiari, quasi uno sciame, crea una profondità e una prospettiva. Sembra una strada, forse un tunnel. Alcune targhette sono unite le une alle altre da linee rette e bianche. Richiamano alla mente le costellazioni celesti. Allora riconosciamo nel dipinto il cielo, uno spazio cosmico buio e infinito, e le targhette con i codici numerici si rivelano essere stelle. Il titolo dell'opera è Stelle cadenti, dunque le targhette di vetro che sono per terra sono le stelle cadute. Anselm Kiefer nasce in Germania nel 1945. In un'intervista afferma «Nelle mie opere scorre il sangue della storia». L'artista sceglie di assumere su di sé il ruolo di mediatore, uno sciamano alchimista che, grazie al potere conferitogli dalla sua arte, si fa interprete di un sentimento universale, il dolore dell'umanità per gli orrori della seconda guerra mondiale. Il cielo di Kiefer che stiamo guardando è stato dipinto nel 1998 e assomiglia a un archivio nel quale ogni stella è identificata dal codice alfanumerico usato dalla NASA per classificare i corpi celesti. Ma i numeri sulla tela riportano anche alla mente quelli tatuati sulle braccia degli ebrei prigionieri nei lager nazisti vittime dell'olocausto. In questa opera la memoria storica si intreccia con la natura infinita dell'universo. Microcosmo e macrocosmo sono tra loro incindibili.